Proseguono gli allenamenti congiunti del Pineto in vista del suo primissimo campionato di Serie C. I biancazzurri hanno incontrato il Giuliano, prima squadra della stessa categoria. Allo stadio, Ughetto di Febbo di Silvi finisce 0-1 per i campani grazie al rigore di Marotta nel primo tempo. Per gli abruzzesi, ottima prova globale sia tra primo che secondo tempo. Il 3-5-2 di mister Daniele Amaulo appare sempre più rodato e oliato con un buon subentro degli ultimi arrivati. Buona la prova di Volpicelli, ispiratissimo del giovanissimo Iaccherino classe 2004 e in generale di tutto il gruppo. Considerando che i campani di mister Di Napoli, ormai una certezza della Serie C, sono una compagine che vorrà togliersi nel raggruppamento C le proprie soddisfazioni. Allo scoccare ormai dell'ufficialità dei gironi e dei calendari, il Pineto del presidente Silvio Brocco vorrà poter dire la sua e dare continuità a un progetto iniziato da lontano e che vede i biancazzurri con merito per la prima volta tra i professionisti.